Posizione di sparo! Carica! Ti prego, mio signore, abbi pietà delle loro anime, e così sia. Se il delitto può essere anche una professione, questi sono tre esemplari di coscienziosi, onesti e metodici professionisti del massacro. Fidel Ramirez, detto il messicano, esperto di cavalli e ladro di medesimi. Chattanooga Jim, detto Robin Hood, la pistola più veloce della ritorno. Stil Donney, detto lo spretato, radiato dal clero per aver fatto saltare la casa di un fedele che aveva bestemmiato in chiesa. Professionisti per un massacro. Il loro recapito, il canyon di Glorieta Patti, ma non è consigliabile andarli a trovare. Sono troppo gelosi della loro tranquillità, e si corre il rischio di essere messi alla porta se non ci si fa annunciare. I loro amori. Pingui casseforti traboccanti di dollari, e opulente creature traboccanti di birra. Ancora non ho detto amen. Tre professionisti dai sani principi morali e religiosi. Il lavoro viene eseguito con il massimo scrupolo. Le consegne vengono sempre fatte a domicilio, a fatto che il pagamento avvenga alla consegna. Non accettano reclami, ma di solito non resta mai nessuno per reclamare. Le donne non vengono mai trattate insieme agli affari, e vengono rigorosamente tenute lontano dalla zona dei lavori. Professionisti per un massacro. Una società perfetta, senza capi e senza padroni, nella quale le cariche vengono equamente distribuite. Una società con pochi concorrenti, e quei pochi hanno i secondi contatti. La società con pochi concorrenti,